Chi passa dalla zona industriale di Forlì non può non notare la struttura che si sta inalzando in mezzo alle case. La nuova moschea, o più precisamente il centro di cultura islamico cittadino, sta lentamente prendendo forma. A autofinanziare la sua costruzione è stata la comunità islamica locale. Il costo complessivo dell'apparazione è di 430.000 euro. Una volta terminata, la moschea potrà ospitare fino a 350 fedeli. Da alcuni giorni inoltre è stato installato il minaretto, la parte superiore che raggiunge i 17 metri. I lavori del luogo di culto islamico dovrebbero concludersi in primavera. E con il procedere della costruzione arrivano anche le polemiche in primis della Lega Nord capeggiata da Jacopo Morrone, che incalza sulla mancanza di responsabilità dell'amministrazione forlivese, che negli anni si è ostinata a mantenere una posizione di conciliante buonismo. Qui non si discute la libertà di religione, che è tutelata dalla Costituzione. Qui è in ballo qualcosa di molto diverso, che è il richiamo al radicalismo islamico attraverso i sermoni pronunciati in arabo dagli imam, che sfuggono a ogni tipo di controllo, spiega Morrone in una nota. Le nostre quindi sono legittime preoccupazioni, continua Morrone, che ci spingono a sollecitare un monitoraggio capillare delle attività svolte in questa struttura. Grazie.